Covid-19, pronto il piano vaccinale per la fase 2 italiani divisi in sei fasce di priorità, ecco quali. Sono sei le categorie che verranno vaccinate prioritariamente nella seconda fase della campagna vaccinale anti-Covid. La prima sarà quella dei soggetti estremamente vulnerabili per particolari patologie, indipendentemente dall'età. Lo prevede l'aggiornamento del piano nazionale vaccinazione per SARS-CoV-2. Seguono le persone tra 75 e 79 anni, tra 70 e 74 anni, persone con particolare rischio clinico dai 16 ai 69 anni, persone tra 55 e 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico, persone tra 18 e 54 anni senza aumentato il rischio clinico. Alle prime 5 categorie andranno i vaccini a mRNA, alla sesta quello AstraZeneca. Nell'aggiornamento del piano nazionale vaccinazione per SARS-CoV-2 si indicano le priorità per la seconda fase della campagna, anche a ragione dei vaccini disponibili. Il documento di aggiornamento delle categorie dell'ordine di priorità per la vaccinazione, priorità per l'attuazione della seconda fase del piano nazionale vaccini Covid-19, è stato elaborato dal Ministero della Salute in collaborazione con AIFA, ISS e Agenas, tenendo conto della riduzione dei vaccini disponibili nella prima fase della campagna di immunizzazione. Il documento è stato oggetto di confronto con il Comitato Nazionale di Bioetica. Verrà ora discusso in conferenza Stato-Regione. Intanto, la stessa conferenza Stato-Regione deve dare il via libera ai protocolli per le vaccinazioni aggiuntive sotto i 55 anni, con le dosi disponibili del siero AstraZeneca, che non può essere somministrato agli anziani in target over 80, attualmente in fase di prenotazione. L'attuazione del piano tra febbraio e marzo. Con il siero AstraZeneca si comincia con Forza dell'Ordine, Esercito, Protezione Civile e poi si prosegue con gli insegnanti, che però si lamentano anche di questo e vorrebbero avere somministrato uno degli altri due vaccini. Nel frattempo sono 40.000 su 320.000 gli anziani over 80 che si sono prenotati per ottenere la prima dose di vaccino. In un solo giorno, un ottavo della popolazione anziana ha già avuto accesso alla prenotazione. La vaccinazione con il siero AstraZeneca in questa prima fase vedrà coinvolte alcune categorie che svolgono servizi essenziali, come Forze Armate, Forza dell'Ordine, Vigili Urbani, Insegnanti, coloro che svolgono attività per la pubblica amministrazione e per la protezione civile, in particolare alle categorie che svolgono servizi essenziali.